Ciao belli di mamma, come potete vedere oggi sto facendo un video strano per me perchè non sono abituato a fare questi video tutorial quindi spero che vi piaccia comunque perchè è un piccolo bug, chiamiamolo bug ok, tra virgolette che ho scoperto da poco grazie a un mio amico allora, è una cosa molto semplice copiare l'emblema tanto io ho copiato questo Pikachu che è super mega pulcioso ma a voi non ve ne frega niente, quindi dovete andare semplicemente o su amici oppure su giocatori recenti e scegliere l'emblema che vi interessa, tette, tette ovunque avevo visto uno che va bene, ok perfetto avevo visto tette, tette ovunque ultimamente, questo mi piaceva scegliete insomma il profilo che vi ispira di più premete coach perchè se sei sulla play 3 va bene, dopo sulla 360 dovrebbe essere uguale canale giocatore e dovete guardare se ha le immagini, anche dei vostri amici sempre lo stesso procedimento ok, questo ha le immagini, perfetto e dovete premere in sequenza, intanto vabbè lui è solo sto emblema, non si sa perchè vabbè, tipo avrà fatto mille miglia ore per fare sto emblema se non l'ha copiato comunque lo scoprò anche nella descrizione del video il procedimento il procedimento, i pulsanti da premere insomma, il procedimento comunque adesso è premere quadrato, cerchio, su, quadrato, quadrato, eh vaffanculo dovete essere straveloci ok allora, quadrato, cerchio, su, quadrato, 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 giù, quadrato ecco, perfetto, mi è uscito e io lo salvo adesso ovviamente non l'avrete capito un cazzo perchè, cioè non vi ho fatto vedere i tasti ma i tasti ve li scrivo comunque nella sequenza giusta da la scrivo nella descrizione del video, porca puttana, non mi viene in me ok, basta, fine, finisci e eccolo qua, il bello di mamma, eccolo qua, l'emblemo bello di mamma io ne ho copiati due e tre, vabbè, questi sono gli unici che ho fatto io, guardate che figli eh, ok, anche questo ho fatto e, a parte questo, spero che il video vi sia piaciuto, è stato un tutorial abbastanza veloce adesso siamo il, vediamo, il 22 del 7 del 2014 e il bug, bug, tra virgolette, e questo trucco funziona non so per quanto funzionerà e vedremo, insomma, spero che lo lasciano per un bel po' di tempo spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile fatemi pure domande se non vi è chiaro qualcosa spero che sia stato abbastanza semplice basta che andate su amici e su un profilo, vabbè, adesso facciamo a rando canale giocatore e deve avere le immagini e dopo la sequenza di tasti, questo non ce l'ha e non potete fare niente vi attaccate un bel po' e deve avere un'immagine per forza e fate quella sequenza di tasti spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima, ciao